Droga, marito e moglie arrestati dalla polizia a Caltanissetta, sequestrati 30 grammi di eroina. Caltanissetta, controlli del corpo forestale al mercato ortofrutticolo, sette verbali e sanzioni per 9.000 euro. Assegno unico e universale 2023, stop alle domande di rinnovo, IMSI liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ne ha già beneficiato. Undicesima edizione del concerto di Natale a Sant'Agata. San Cataldese, rescissione del contratto con 5 tesserati. Ben trovati, marito e moglie arrestati dalla polizia a Caltanissetta dopo un controllo. Gli agenti hanno sequestrato 30 grammi di eroina. La squadra mobile di Caltanissetta ha tratto in arresto un uomo e una donna, marito e moglie, per detenzione ai fini di spaccio di eroina. Sono stati intercettati mentre transitavano per le vie della città a bordo di un'autovettura da un equipaggio della sezione antidroga, nel corso dei servizi di prevenzione, repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti, entrambi si sarebbero mostrati particolarmente insofferenti e avrebbero fornito agli agenti versioni diverse sul luogo di provenienza, chiedendo di potersi allontanare per raggiungere i propri figli. Inoltre l'uomo, alla guida del mezzo, avrebbe dichiarato di non aver portato con sé la patente. Vista la situazione, i poliziotti della squadra mobile accompagnavano i due in questura per ulteriori accertamenti. Negli uffici di via Catania la donna avrebbe accusato un malore, poi avrebbe consegnato agli agenti un involucro contenente 30 grammi di eroina. L'uomo, arrestato in concorso con la moglie per il trasporto della droga, è stato denunciato per sostituzione di persona, poiché avrebbe fornito agli agenti false generalità. L'eroina, una volta immessa nell'illegale mercato della droga, avrebbe fruttato 1.800 euro circa. Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha convalidato gli arresti e ha applicato la misura della custodia ai domiciliari. Controlli del corpo forestale al mercato ortofrutticolo di Caltanissetta, sette verbali e sanzioni per 9.000 euro. Con le festività natalizie continuano e si intensificano i controlli degli agenti del corpo forestale della regione siciliana, coordinati dal nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia in tutta l'isola. In particolare questa mattina si è svolta un'operazione al mercato ortofrutticolo comunale di Caltanissetta, condotta da 15 unità del corpo forestale. Sono state emanate in totale 9.000 euro di sanzioni. È stato riscontrato infatti il mancato rispetto della normativa europea sulla tracciabilità della merce, in particolare su diverse partite di agrumi, arance, limoni, clementine, prive della documentazione di provenienza. Va avanti la nostra attività a tutela dei cittadini e dei consumatori, dice l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana. Oltre a reprimere le irregolarità e il mancato rispetto delle leggi sulla tracciabilità dei prodotti, puntiamo anche a sensibilizzare gli operatori della filiera agroalimentare sul rispetto dell'enorma garanzia della salute dei siciliani. Quello che arriva sulle nostre tavole deve sempre avere una provenienza certa e legale, per noi è un valore fondamentale, ha concluso. Assegno unico, stop alle domande di rinnovo. L'Inps liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ne ha già beneficiato. Dal 1 marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell'Inps, senza l'onere di presentare una nuova domanda. E quanto fanno sapere dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale? Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell'assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un'istanza che non è stata accolta o non è più attiva. Si tratta di una misura di semplificazione per l'utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo. I dati dell'istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell'Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità. Dall'Inps aggiungono che eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023. A titolo d'esempio nascita di figli, variazione, inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli e altro, dovranno essere comunicate dai richiedenti integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. Le domande possono essere inviate tramite le consuete modalità. Portale web dell'Istituto, previo accreditamento con Speed, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, contact center integrato, servizi offerti dagli istituti di patronato, app mobile e Inps. Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, non va dimenticato che per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Per la quantificazione dell'assegno permane per tutti i beneficiari l'onere di procedere alla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta dell'Isee per l'anno 2023. In assenza di una nuova DSU correttamente attestata, l'importo dell'assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023, con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare numero 132 del 15 dicembre 2022, pubblicata sul portale internet dell'Inps. A San Cataldo visita dei vandali alla casetta di Babbo Natale, danneggiati gli addobbi e portati via diversi fari. I vandali non conoscono stagione e riescono a colpire anche sotto le festività natalizie. Nella notte, infatti, è stata vandalizzata la casetta di Babbo Natale a San Cataldo, sita dinanzi al palazzo comunale. Hanno portato via alcuni fari, addobbi e rotto i vetri delle finestrelle. Indignazione da parte della giunta comunale san-gataldese che subito si è rimessa all'opera per riparare il danno e l'atto vandalico. Stamattina al nostro risveglio abbiamo avuto un brutto risveglio. Abbiamo trovato la casetta di Babbo Natale che avevamo allestito nei giorni scorsi aperta, vandalizzata e qualcuno si è introdotto per rubare ciò che era al proprio interno. Dico la verità, siamo rimasti abbastanza sconvolti. Sconvolti perché non pensavamo che si potesse arrivare a tanto. Nei confronti di chi lo ha fatto, nei confronti dei delinquenti che sono entrati stamattina e hanno vandalizzato la nostra casetta, faccio presente che ovviamente nelle prossime ore noi procederemo con le dovute denunce e con i dovuti esposti. Stiamo controllando le telecamere di accesso al Corso Sicilia davanti al Comune di San Cataldo. È chiaro che l'amarezza di questo evento oggi non ci lascia in qualche maniera sereni, ma in ogni caso non ci vogliamo fermare a questo. Non ci possiamo fermare a questo stato di inciviltà e di poco senso civico perché il nostro interesse, la nostra passione per questa città va oltre. Abbiamo deciso di fare tutto un altro Natale quest'anno, l'abbiamo promesso e ci stiamo mettendo in atto tutte le nostre forze affinché questo possa essere realizzato. Per questo motivo proprio oggi abbiamo ricomprato tutto il materiale che insomma è stato rubato per allestire di nuovo la nostra casetta che stasera sarà completa e che tornerà a vivere proprio in occasione degli eventi che saranno nei giorni a seguire tra la casetta di Babbo Natale, Babbo Natale Slitta per garantire proprio ai nostri bambini e alle famiglie di potersi godere questo Natale che San Cataldo merita nel migliore dei modi. Acquisti di Natale, i consigli della Polizia Postale per evitare raggiri in tutti i settori. Manca poco al Natale con i prossimi giorni che saranno caratterizzati dalla rincorsa agli ultimi regali. È in quest'ottica che la Polizia di Stato attraverso un video pubblicato sui social ha richiamato l'attenzione dei consumatori alle truffe online sempre più frequenti. Sul web improvvisamente compaiono falsi siti di vendita, di alberi di Natale, di regali, di pacchetti per vacanze da sogno a prezzi scontatissimi. La Polizia Postale delle Comunicazioni raccomanda massima prudenza. In particolare la Polizia Postale ha evidenziato i raggiri spesso legati alle prenotazioni di pacchetti vacanze consigliando massima prudenza nella modalità e nella scelta del prodotto da acquistare. La prima regola è di fidare sempre di offerte eccessivamente vantaggiose. È preferibile acquistare da siti ufficiali o comunque già conosciuti utilizzando in ogni caso una carta prepagata. Nel caso in cui si decida di acquistare da un sito per la prima volta si consiglia di controllare attraverso un comune motore di ricerca le recensioni pubblicate da altri utenti e di verificare il feedback di gradimento del venditore. Infine, prima di procedere all'acquisto del prodotto scelto, è il caso di accertarsi che sul sito sia presente la politica di reso e un numero di servizio clienti attivo. Bastano poche regole da seguire quindi per evitare spiacevoli delusioni e fare in modo che le uniche sorprese siano quelle sotto l'albero. Caltanissetta, illuminazione pubblica, interrogazione del consigliere comunale Giarratana. Ecco in un'interrogazione che i consiglieri comunali di Caltanissetta, protagonista Giovanna Molè e Michele Giarratana, che chiedono al sindaco di Caltanissetta chiarimenti circa l'illuminazione cittadina in centro storico. Vogliono sapere se l'amministrazione Gambino abbia in programma il potenziamento della rete di illuminazione pubblica nelle strade del centro, che i due consiglieri definiscono spettrali. Si dicono inoltre preoccupati per la situazione attuale sotto il profilo della sicurezza in città. Evidenziano inoltre che da decenni non vengono progettati e quindi realizzati impianti, modifiche e potenziamenti della rete di illuminazione e si chiedono se sia previsto nel piano annuale delle opere pubbliche qualche intervento e quali convenzioni sono attualmente in essere con le ditte private per la gestione dell'illuminazione e quali scadenze hanno soprattutto se prevedono interventi di nuove installazioni e potenziamenti. Abbiamo così contattato sulla questione il sindaco che replicherà all'interrogazione in sede istituzionale. A Caltanissetta interventi nel parcheggio di via Medaglie d'Oro. Il parcheggio di via Medaglie d'Oro sarà riqualificato con vari interventi sulla struttura tra cui la realizzazione del collegamento con rampe per ciascun livello. Si manterrà un unico sistema di incasso per la sosta con l'integrazione di un'ulteriore modalità di pagamento. Infatti oltre alle monete sarà possibile utilizzare anche carte di credito e bancomat. Tutte le novità verranno riportate nel bando per l'affidamento. Nella giornata di ieri è stata approvata in giunta la delibera relativa all'approvazione degli elaborati relativi alla gara per la gestione delle aree di sosta a pagamento e delle attività complementari tra cui la gestione degli impianti in ricarica dei veicoli elettrici, la rimozione dei veicoli abbandonati e alcuni interventi di riqualificazione e adeguamento del parcheggio multipiano di via Medaglie d'Oro. Tra le più importanti azioni voglio ricordare che sarà rimodulato il servizio degli abbonamenti per la sosta che consentirà a tutti i cittadini di poterno soffruire secondo scaglioni differenziati anche in funzione delle differenti esigenze. Il costo della sosta oraria ricordo rimarrà uguale a quello attuale. Il parcheggio con questo intervento sarà unificato senza l'attuale divisione tra piano terra e livelli soprastanti. Si permetterà così di accedere all'uso dei parcheggi al chiuso più semplicemente. Un altro intervento richiesto dal bando è quello della collocazione nell'astrico di copertura, sarebbe l'ultimo piano del parcheggio di via Medaglie d'Oro, la realizzazione di trattorie fotovoltaiche sui posti auto con recupero di energia elettrica per la gestione sia della struttura sia per il possibile utilizzo per la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile. Ovviamente il bando terrà anche conto di tutti gli incentivi e le previsioni che sono state dettate dal regolamento della sosta approvato dal Consiglio Comunale. Una volta approvato in giunta il bando sarà rapidamente pubblicato, avviando la procedura di gara ci consentirà la possibilità di individuare il nuovo gestore del servizio. Biciclette per due ragazzi dell'Istituto Penale per Minorenni, iniziativa di due club Lions. Sabato scorso il Lions Club Caltanissetta dei Castelli e il Lions Club Caltanissetta hanno donato due biciclette all'Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta. Avendo saputo che due ragazzi dell'Istituto in base all'articolo 21 svolgevano attività educativa fuori dall'Istituto Penale Minorile di Via Turati e in tutta altra parte della città, con chiare difficoltà organizzative di spostamento, i due club del Lions hanno unito le forze ed hanno donato due biciclette che consentiranno facilità di movimento. Al momento della consegna tre rappresentanti di ogni club autorizzati dal magistrato di sorveglianza hanno consegnato le biciclette alla presenza del direttore Girolamo Monaco ed è responsabile della struttura e hanno potuto anche incontrare i giovani ospiti spiegando loro cos'è il Lions Club, di cosa si occupa, del perché di questa donazione e della necessità di essere tutti solidali. Il carcere, l'Istituto Penale per i minorenni è dentro questa città, non è esterno alla città e a un certo punto dopo l'estrema chiusura del Covid è nata l'esigenza di aprirsi, aprirsi al territorio così come la legge ci chiede, così come ci chiede soprattutto il mandato per quanto riguarda i minorenni cioè un'integrazione con il territorio. Noi abbiamo diversi percorsi, in cosiddetto articolo 21, il lavoro all'esterno, abbiamo avviato ragazzi a studiare per completare il ciclo scolastico fuori, alcuni ragazzi hanno partecipato a dei progetti finché i progetti sono stati vicini e li abbiamo potuti realizzare nella semplicità persone che uscivano e rientravano. Quando a un certo punto non abbiamo avuto la possibilità abbiamo chiesto non avevamo la possibilità per questioni burocratiche, per così ragione, di comprarle queste biciclette li abbiamo chiesti, i live non sono stati molto disponibili. Anche l'idea della bicicletta mi piace, la bicicletta che pedala, del senso del sudore, della fatica perché l'istituto penale per i minorenni è un percorso di riappropriazione dei bisogni e dei problemi educativi che ogni persona ha avuto, i minorenni in particolare. Questo è un istituto piccolo perché ha un massimo di 12 utenti, però il grande investimento politico, sociale su questi minorenni rende conto di un cambiamento possibile. Educare significa cambiare, a partire dai piccoli progetti, alcuni sono molto simbolici come per esempio, lo devo dire, il progetto sul riciclaggio, sul rifiuto. Il rifiuto materiale, ma anche sociale, il cosiddetto rifiuto, si può riciclare. Ecco, abbiamo decorato un albero di Natale con degli oggetti in plastica fatti dai nostri ragazzi. Dentro il carcere c'è tutta una vita, si riprende il percorso scolastico. Noi qui abbiamo cittadini italiani che non sanno leggere, non sanno leggere, firmano a stampadello come gli immigrati. Quindi abbiamo noi due sezioni, una di alfabetizzazione e una di scuola media. Quindi un grosso lavoro educativo, un grosso lavoro per il recupero di queste persone che sono figli di questa società. La Befana arriva in treno, appuntamento il 6 gennaio alle ore 11, alla stazione di Caltanissetta Centrale. Nel giorno dell'Epifania, sul binario 1 della stazione centrale di Caltanissetta, arriverà in treno la Befana, che porterà doni e bambini che si troveranno lì davanti. Partirà dalla stazione di Xirbi e arriverà in stazione per le ore 11. Iniziativa promossa dal presidente del dopolavoro ferroviario, Michele Calabrese. Questa manifestazione si è dovuta fermare negli anni passati per motivo Covid, ma visto il rallentamento abbiamo pensato di ricominciarlo a fare, questa Befana che arriva a quel treno. Sentendo parlare persone adulte che hanno avuto in passato questa esperienza, li vedo parlare con molta emozione ricordando i periodi della loro infanzia e noi questa manifestazione la dobbiamo ripetere fino in fondo. La Befana il 6 gennaio arriverà sul primo binario da Xirbi e porterà la Befana che recherà sacchetti di caramelle per i bambini. Dopodiché si entrà nella sala del dopolavoro centrale dove la Befana consegnerà i doni che precedentemente i genitori hanno consegnato al dopolavoro stesso. È un augurio questo qua perché manifestazioni come queste devono sempre ripetersi perché non si dimenticano, non si dimenticano mai. Nuova vita per nuove avventure, iniziativa del gruppo scout Caltanissetta 4. Nuova vita per nuove avventure, questo è lo slogan dell'iniziativa del gruppo scout Caltanissetta 4 lanciata anche attraverso i social per rintracciare vecchi uniformi in buono stato da poterli utilizzare. Il nostro intento è quello di cercare di reperire quanti più pezzi dell'uniforme che siano camicie, o con i pantaloni, i pantaloncini che sono ad invecchiare nell'armadio e invece sarebbe più utile che avessero una nuova vita indosso dei ragazzi che tra l'altro alcuni dei quali purtroppo non possono comprarle perché gli uniformi costano. E quindi abbiamo deciso di fare questa iniziativa, di lanciare questa proposta alla collettività agli ex scout che tra l'altro il nostro gruppo ha anche 60 anni quindi ci sono tantissimi ex scout che avranno sicuramente queste uniformi da poterci donare. E proprio questa ricorrenza verrà celebrata nei prossimi mesi. Questo è il 60esimo anniversario, noi compiamo 60 anni quindi dall'anno nuovo faremo anche delle altre iniziative proprio per cercare di rendere note, di coinvolgere anche la cittadinanza per questa bella storia, questa storia che porta il nostro gruppo Caltanissetta 4. Noi abbiamo attualmente tre branche, abbiamo i lupetti, la branca LC che sono quelli che sono più piccoli, sono dagli 8 ai 12 anni, la branca IG che è il reparto, quindi abbiamo ragazzini di età intermedia tra i 12 e i 16 anni ed infine la branca RS che è il clan sostanzialmente che raccoglie ragazzi fino all'età dei 20 anni e poi ovviamente a dirigere l'orchestra se così si può dire c'è la comunità capi. Noi le nostre attività sono prevalentemente ovviamente nel bosco soprattutto il reparto, invece il clan ne fa anche, le caratteristiche del clan sono la strada e anche il servizio, si mettono a disposizione della collettività o di chiunque ne ha bisogno. Infatti per loro faranno tra poco un'attività invernale, andranno a fare servizio presso Biagio Conte, proprio nello spirito della branca stessa mettersi a disposizione degli altri. Attualmente sono circa 130 componenti suddivisi tra le varie branche ma il gruppo è sempre pronto ad accogliere nuovi scout. Lo scoutismo abbraccia tutti di qualsiasi età, di qualsiasi classe sociale, di qualsiasi parte della città. Noi invitiamo tantissimo soprattutto i ragazzi a partire su quasi subito, quindi dagli otto anni, a fare parte dello scoutismo. Noi accettiamo anche magari adulti o già ragazzi anche di più grandi, anche tra i 17, 16, 18 anni, che vogliono entrare a far parte del mondo scout. Io siamo noi, una speranza nella ferita, Caltanissetta, riflettori sul passato e sul presente. Inaugurata sabato 17 dicembre all'interno dei nuovi spazi della Galleria Civica d'Arte Contemporanea di Palazzo Moncada, la mostra personale del maestro Salvo Bonnici, dal titolo Io siamo noi, una speranza nella ferita, curata da Antonio Vitale con i contributi critici di Gorghefaccio, Lince e Andrea Guastella insieme a Licia Oddo, evento promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con il patrocinio del comune di Caltanissetta e del comune di Catania. Il messaggio che vogliamo dare è quello che con tutte, sotto tutte le forme delle arti, in questo caso figurative e artistiche, vogliamo sensibilizzare ad una cultura di pace, perché solo partendo da una cultura di pace possiamo un giorno forse giungere veramente a parlare di pace. Ed è una cosa molto importante da portare in avanti nelle scuole, non doverle pubblicizzare maggiormente. L'arte si fa strumento di pace, ben cento le opere esposte realizzate da Bonnici dal 2010 ad oggi, un percorso pittorico e distillativo che parte dal senso di incertezza e precarietà dell'opera deflagrazione per proseguire in ciascuna delle tre sale successive, passando dalla dolcezza e tenerezza che sfuggono alla devastazione della guerra, metaforicamente rappresentate dai gatti presenti nei dipinti, fino al messaggio velato di luce e speranza, attraverso il risveglio delle coscienze. Proprio nella terza sala, 12 installazioni che raccontano le anime fragili in un viaggio immaginario da Oriente a Occidente, con il messaggio conclusivo che c'è sempre luce e speranza nel mondo, grazie a chi si rende promotore di pace. La mostra sarà visitabile fino al 28 gennaio, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. A Caltanisset l'undicesima edizione del concerto di Natale a Sant'Agata. Sabato sera al Collegio Sant'Agata si è svolto l'undicesimo concerto di Natale denominato The Christmas Soul, con il coro Gospel Joyce Chorus diretti dal maestro d'orchestra Raimondo Capizzi. Il concerto, organizzato dall'associazione Gesù Nazareno, presieduto da Salvatore Gianmusso, è stata l'occasione per raccogliere beni alimentari da donare ai più bisognosi e per dare come comunità parrocchiale il saluto a Padre Sergio Calizac, che da gennaio ritornerà in Brasile. Concerto Associazione Gesù Nazareno, ci sono stati invitati appunto da loro, undicesimo concerto, i Joyce Chorus anche quest'anno loro fanno 11 anni, il coro Gospel città di Caltanissetta, e con la scusa e anzi con il dispiacere anche di salutare Padre Sergio quest'anno che se ne va, abbiamo organizzato questo concerto di Natale, Gospel e non Gospel. Come ogni anno invitiamo un gruppo, un'associazione, un gruppo musicale, quest'anno abbiamo il piacere di avere Raimondo Capizzi con il Joyce Chorus, Raimondo Capizzi già avevamo collaborato qualche anno fa con i concerti che noi organizziamo anche in prossimità della Pasqua. Quest'anno è un concerto particolare per noi, perché intanto rappresenta la vera ripartenza dopo il Covid, perché l'anno scorso, sì, l'abbiamo fatto l'anno scorso, però era intorno un po' minore, perché ancora eravamo in lockdown, pandemia, eccetera. Quest'anno invece finalmente lo possiamo fare veramente con una ripartenza. A San Paolo appuntamento serale quotidiano per la novena nel segno della tradizione. In attesa del Natale nelle parrocchie vengono vissuti dei momenti di preparazione spirituale al giorno di festa attraverso le novene. Tra battiti di mani, tamburelli, qualche cappello natalizio e canti in dialetto, i giovani parrocchiani della Chiesa di San Paolo si danno appuntamenti in parrocchia ogni sera dal 16 dicembre per partecipare alla novena tradizionale che si conclude poi con dei doni per grandi e piccini. Abbiamo pensato ormai da qualche anno di coinvolgere i ragazzi del Catechismo e anche le loro famiglie per la novena delle otto di sera delle vendi perché ne facciamo due, una nel pomeriggio e una la sera alle vendi proprio per dare la possibilità alle famiglie insieme ai ragazzi di prepararsi al Natale vivendo con semplicità questo momento di preghiera ma anche un momento di gioia con i canti tradizionali della nostra tradizione siciliana che aiutano anche i ragazzi a comprendere tante cose importanti che forse il mondo di oggi non ci propone più però ecco quelle tradizioni semplici gli usi che c'erano nelle famiglie il cantare in dialetto proprio per prepararsi ad accogliere il bambino Gesù e allora anche noi vogliamo proporre questo alle nostre famiglie con semplicità un momento di gioia e di preghiera con la novena ovviamente vengono coinvolte anche le famiglie perché lo scopo della parrocchia e soprattutto quello che punta il parroco è avvicinare le famiglie insieme ai bambini perché è più difficile invece in questo modo in un momento di gioia, di allegria dove tutti partecipano, grandi e piccini consente di convogliare dentro la chiesa in maniera tale da far capire che la chiesa non è soltanto un momento dove si sta con tristezza ma c'è molta allegria infatti noi questa sere come tutte le altre sere cerchiamo di trasmettere ai bambini anche insegnare loro di canti in siciliano che sono delle tradizioni ormai perse non è facile conoscere queste canzoni in siciliano però tramite questo le famiglie si avvicinano noi stai siamo abbastanza contenti di questo Intanto rimangono ancora esposti i presepi realizzati dai ragazzi e ragazze delle 12 classi di catechismo presenti in parrocchia Padre Leandro ha coinvolto ogni bambino insieme alla catechista a preparare un presepe a tema ovviamente cercando di fare riferimento al riciclaggio utilizzando anche la natura infatti ci sono presepi fatti con le pigne presepi fatti con la carta presepi fatti con il vetro presepi fatti con la pietra con i bottoni ogni bambino è stato coinvolto dalla catechista a realizzare un pezzo di questi presepi Sport, calcio, San Cataldese e rescissione del contratto con 5 tesserati Treppiedi, D'Agosto, Leonardo, Tormina e Torregrossa Continuo il lavoro della San Cataldese nell'intento di migliorare la rosa disposizione di Pietro Infantino il mese di dicembre infatti in Serie D è sinonimo di calcio mercato la società Verde Amaranto attraverso una nota ufficiale ha comunicato di aver rescisso il contratto con Salvatore Treppiedi Samuele D'Agosto Giovanni Leonardi Francesco Taormina e Raul Torregrossa mese di dicembre molto intenso per la Serie D e quindi per la San Cataldese con la società impegnata nel delicato tentativo di migliorare la rosa disposizione del proprio allenatore cercando di non destabilizzare la squadra impegnata in un'appassionata lotta per la salvezza non si ferma infatti il campionato così dopo il pari interno con il Locri domani alle 14.30 andrà in scena la diciassettesima giornata di Serie D Girone I con la San Cataldese che farà visita al Paternò reduce dalla pesante sconfitta contro la Cireale una trasferta delicata per i ragazzi di Infantino alla ricerca di una vittoria che regalerebbe un Natale più sereno a tutto l'ambiente le altre partite del diciassettesimo turno tutte in programma domani alle 14.30 Castrovilla-Ricanicattì rinviata per Covid Catania-Trapani Città-Sant'Agata-Cireale Città-Novese-La Mezzia-Terme Licata-San Luca Locri-Realla-Versa Mariglianese-Santa Maria-Cilento Vibonese-Ragusa E tutto vi lascio al Meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà una perturbazione comunque debole transitare sul nord Italia lo vediamo da queste macchioline azzure che passano sul nord controlliamo però intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese si tratta di un sistema nuvoloso atlantico lo vediamo proprio arrivare da ovest e transitare sulle regioni setentonali diciamo non particolarmente intenso interessa principalmente il nord a sfiora l'Italia centrale come precipitazioni torna in effetti qualche goccia di pioggia in Liguria sul Piemonte Orientale in Lombardia Bassovedeto e Emilia-Romagna coinvolta in parte la Toscana comunque perturbazione abbastanza veloce e quindi in definitiva ci attende un mercoledì al centro-sud ancora bello anche se con qualche nuvola in più si tratta della coda di questa perturbazione sul versante tirenico in Toscana la possibilità come vi dicevo anche di qualche pioggerella però il nord sarà la zona con nuvolità più estesa e compatta anche delle piogge ma comunque già dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento all'estremo nord-ovest e poi a fine giornata il tutto si sposta verso est il nord però avrà sempre temperature un po' più contenute al centro-sud invece clima che resta davvero mite per tutta l'Italia e comunque sulle vostre località fino ad arrivare anche al Natale consultate l'app di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Messana Viale Conte Testa Secca Servizio notturno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele